Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Abusa di due nipoti, tre dicenni, arrestato zio Orco di Favara. In un caso rappresenta anche il figlio dell'uomo, un bimbo di due anni. Quindicenne racconta di essere stata violentata in un locale della Daura a Palermo, denunciata a piede libero un diciannovenne. Dopo la violenza scoppia la rissa tra i rispettivi gruppi di amici. Basta con mafia e crack, l'anatema del vescovo di Palermo, l'orefice, durante il festino di Santa Rosalia, bagno di folla per la quattrocentesima edizione. Cambia volto l'Etna che adesso ha due bocche a tiro. Oltre a lavoraggine si è risvegliato anche il cratere di nord-est. Catania sotto la cenere, pulizia farsa delle spazzatrici, costretta ad operare tra le auto in divieto di sosta. Manca un vero coordinamento e cresce malcontento tra le gente. Alta Urmina Film Festival, la storia del giudice Terranovo ucciso dalla mafia nel 79. Il regista Pasquale Scimeca, un esempio per Falcone e Borsillino. Calcio varato il calendario di Serie C, esordia in trasferta per il Catania che affronterà il Sorrento e per il Trapani di scena a Foggia, mentre il Messina apre la stagione in casa contro il Potenza. Avrebbe abusato di due nipoti, tredicenni, arrestato a Favara lo zio Orco ad assistere alla scena anche il figlioletto dell'uomo, un bimbo di due anni. Davide Sardo. Avrebbe abusato sessualmente di due nipoti minorenni, due ragazzini entrambi di 13 anni. La vicenda è venuta fuori per caso. L'uomo era sotto indagini per altre ragioni e i carabinieri del reparto operativo di Grecento avevano nascosto una cimice nella sua automobile. Così quelle intercettazioni hanno rivelato con drammatica chiarezza una turpe storia di abusi tra lo zio Orco, un uomo di 26 anni di Favara, e i nipoti minorenni. Due episodi contestati avvenuti la prima volta il 25 giugno scorso e poi qualche giorno dopo il primo luglio. Una delle due violenze sarebbe stata consumata proprio all'interno dell'auto. Ad accrescere l'orrore, la circostanza che a bordo ci fosse anche il figlioletto dell'uomo, un bimbo di appena due anni, costretto ad assistere agli abusi. In tempi record è stata chiesta e ottenuta l'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è già in cella nel carcere Pasquale di Lorenzo. È una ragazza di 15 anni, una ragazzina dunque ha denunciato di essere stata violentata in un locale della Daura a Palermo. Un giovane di 19 anni è stato denunciato. Dopo la violenza sarebbe scoppiata una rissa fra i rispettivi gruppi di amici. Marco Gulla. È stato denunciato per violenza sessuale il giovane di 19 anni che avrebbe abusato di una ragazza di 15 anni in una scogliera della Daura a Palermo. Dopo una lunga giornata di indagini e di interrogatori, il presunto violentatore è indagato a piede libero. Tutto avviene nella notte tra sabato e domenica. I due stanno trascorrendo una serata con amici in un locale alla Daura di Palermo. Poi si appartono su una scogliera poco illuminata ed è lì che secondo il racconto della ragazzina avviene la violenza. Chiede aiuto ad un buttafuori del locale e viene accompagnata a casa. I carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire quanto successo. La vicenda è iniziata con una rissa in questo McDonald in via Rosario Nicoletti. Si sono affrontati due gruppi di giovani ma quando sono arrivati i militari lo scontro era terminato. A poco a poco è emerso che quelle presenti al fast food erano due fazioni. Da una parte gli amici della vittima, dall'altra quelli del presunto aggressore. Nel frattempo la giovane di 15 anni accompagnata a casa da un vigilante era stata portata dai genitori all'ospedale policlinico dove si trova il reparto che gestisce i casi di violenza sessuale. I medici hanno avvertito i carabinieri che hanno iniziato le indagini e sono risaliti al giovane che era stato incontrato quella sera nel locale e con il quale la vittima si sarebbe appartata. Indaga sia la procura ordinaria che quella per i minorenni. Incidente mortale nel mare delle isole Olio. Un gommone è finito contro uno scoglio nei pressi di Vulcano. Un gommone ha perso la vita Miai Botez, un 34enne di origini romene ma eoliano d'adozione. Era risedente infatti all'Iperi da oltre 10 anni. Alla guida del natante un altro uomo è rimasto illeso che è risultato essere sotto l'effetto di alcol e aveva fatto uso di cocaina. Il corpo di Botez è stato recuperato ieri mattina dalla guardia costiera. Bagno di folla nella notte per il fostino della santa patrona di Palermo. Rosalia oggi tocca la processione religiosa delle spoglie della santa ma ancora risuona nell'aria l'anatema dell'arcivescovo Lorefice contro le nuove droghe. Maglio Viola. Viva Palermo e Santa Rosalia! Viva Palermo e Santa Rosalia! Viva Palermo e viva Santa Rosalia! Santa Rosalia libera Palermo dalla peste. Lo fa per la quattrocentesima volta nella rappresentazione teatralizzata lungo le strade del centro della città. Quattro atti da Palazzo dei Normanni massando per la cattedrale, battendo la peste ai quattro canti per arrivare a Porta Felice e attraversarla trionfante salutata dai giochi d'artificio che poi sono il quinto atto. Le spoglie della santa liberarono Palermo quattrocento anni fa. Stanotte la parte popolare e teatralizzata della festa è andata in scena con la direzione artistica di Marco Balici in un festino spettacolare. Grande bagno di folla, 350.000 persone in strada, tanti fedeli ma anche tanti turisti. Questo è un bel segno, è un segno di coesione, è un segno di comunità, è un segno di curiosità per tanti che ci sono venuti a trovare da altre parti d'Italia e del mondo. Sono accreditate tantissime emittenti internazionali, questo ci fa grande piacere, ci dà grande soddisfazione. Oggi invece è la giornata della processione religiosa delle spoglie della santa lungo lo stesso percorso ma per la città risuona ancora l'anatema dell'arcivescovo di Palermo che nella notte dal carro della santa ai quattro canti ha lanciato i suoi strali contro la nuova droga, nuova peste di questi anni che uccide i nostri giovani. A Tarò come al centro, a Pachetia come a Tetti di Minerese, questa tremenda festa entra nelle nostre case, nelle nostre scuole, nei luoghi di ritrovo dei giovani, nei luoghi del riempimento e dello sport. La festa adesso continua con i suoi aspetti più religiosi e più raccolti. Da domani tutto torna alla normalità, attendendo la notte fra il 3 e il 4 settembre, quando chi ha avuto la grazia dalla santa padrona di Palermo salirà a piedi al santuario su Monte Pellerino facendo l'ultimo tratto, quello dei gradini, in ginocchio. Cambiamo argomento, è tranquilla la situazione sull'Etna che ieri ha regalato una domenica scoppiettante con la doppia attività del cratere Voragine e del Redivivo Nordeste. Cambia ancora la morfologia del vulcano che comunque offre sempre spettacolo, attento però a chi sale in quota, bisogna sempre seguire alcune regole. Emanuela Corsi. Situazione stabile sull'Etna dopo la domenica esplosiva per gli abitanti alle pendici del vulcano che hanno sentito la doppia voce del cratere Voragine e del Redivivo cratere di Nordeste. Dalle immagini della telecamera termica collocata sul versante nord-occidentale, questa l'attività di ieri, con a sinistra il cratere di Nordeste che ha prodotto l'emissione più corposa e a destra la Voragine con una piccola attività stromboliana. Il tutto ha rilevato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha generato un'evidente traccia sismica e boati uditi da vari paesi alle pendici del vulcano, mentre una piccola nube di cenere si è dispersa nella parte sommitale. Il cratere di Nordeste a quota 2.800 metri si è riattivato ieri, dopo più di tre anni di silenzio. Sul sito dell'INGV vengono mostrate le immagini delle variazioni morfologiche dell'area craterica. Queste foto, catturate con i droni, mostrano i cambiamenti dei quattro crateri sommitali, Nordeste, Voragine, Boccanuova e Sudeste, dal 2017 ad oggi. In particolare si può vedere come la morfologia del piccolo cono piroclassico, cresciuta all'interno della Voragine, a causa dell'attività stromboliana iniziata il 14 giugno, sia stata profondamente modificata dal parossismo del 4 luglio, che per intenderci ha causato la copiosa caduta di cenere su Catania. Intanto i recenti parossismi hanno richiamato molti turisti e curiosi, che spesso però si improvvisano escursionisti fai-da-te, con un abbigliamento da spiagge senza adottare precauzioni, mettendo a repentaglio la propria vita. Il consiglio degli esperti è di non avventurarsi mai da soli, soprattutto su percorsi isolati. Anche in estate poi bisogna indossare scarpe da trekking, pantaloni leggeri, una magliettina a maniche corte e una felpa da mettere nello zaino. Affidarsi ad una guida certificata, in ogni caso, è sempre la soluzione più sicura. Intanto Catania è sempre ricoperta di cenere, pulizia farsa nel centro, dove le spazzatrici sono costrette ad operare tra le auto in divieto di sosta. Manca un vero coordinamento e cresce il malcontento fra la gente. Tonino De Mana. Si mette la polvere o la cenere sotto il tappeto. A distanza di 11 giorni dall'eruzione dell'Etna, che ha ricoperto Catania di sabbia vulcanica, l'emergenza non sembra rientrare. Strade, marciapiedi e piste ciclabili sono ancora anneriti ed il servizio di spazzamento, specie nell'Ottocentro, gestito da Gemma, continua a riscontrare gravi criticità. Criticità che derivano dalla mancanza di un vero coordinamento tra enti coinvolti. Più che cenere su cenere, farsa su farsa, perché ormai è diventata una bazzelletta. Abbiamo chiesto in aula di comprendere se c'è un tavolo in prefettura, se c'è il coinvolgimento della protezione civile, ma mi pare di capire che non c'è nulla di tutto ciò. Quindi stiamo ancora attendendo che in alcune zone della città di Catania, soprattutto l'Ottocentro, qualcuno intervenga concretamente. Nonostante i dividi di sosta, per esempio, qui siamo in Via Umberto, le auto restano parcheggiate non consentendo alle spazzatrici di operare sul ciglio della strada. Di fatto il mezzo meccanico si limita a pulire il centro della strada, che tra l'altro, con il continuo passaggio delle auto, è già libero dalla sabbia. E lo farà anche domani, dalle 4 alle 10 e comunque fino al 18 luglio, come indica il cartello. Ma le domande sono, per quale motivo per sei giorni la spazzatrice passerà per pulire il centro della strada? E i vigili urbani? Qualcuno ha verbalizzato i mezzi in divieto di sosta o in alternativa ha sollecitato l'intervento del carattrezzi di AMTS? Non va meglio nella decente piazza di Olanda, nera come l'umore di passanti e residenti. Questa cenere, quando va in circolo, colpisce i polmoni, quindi diventa un problema sanitario serio. Io ho caduto due volte che sono una persona di 84 anni. Non so di chi è la colpa, non voglio dare la colpa, ma sono molto, molto delusa. Pulizia che va avanti a macchie di leopardo. Qui siamo in piazza dei martiri. Tutto fermo invece a Picanello, dove mercoledì è in programma il mercato rionale che già la settimana scorsa si è tenuto tra rifiuti e cenere lavica. Non certo il massimo, dal punto di vista igienico-sanitario. Tra caldo in arrivo è un'alta emergenza, quella della siccità. Si prevedono giorni difficili. I sindaci sono sul piede di guerra. Da ultimo anche il sindaco di Messina, che ha chiesto un incontro in prefettura. Francesco Triolo. L'anticiclone africano è pronta ad innescare probabilmente la settimana più calda dell'estate 2024, con temperature bollenti. Già in Sicilia si misurano 40 gradi, ma sono destinata ad aumentare nei prossimi giorni. Con effetti anche sulla crisi idrica che sta investendo l'isola e che sta provocando anche diverse prese di posizione da parte dei sindaci. L'ultimo è stato quello di Messina, Federico Basile, che dopo aver stanziato un milione di euro dal bilancio per mitigare gli effetti dell'emergenza, adesso si è rivolto al prefetto di Messina, Cosima di Stani, alla quale ha chiesto la convocazione di un tavolo urgente per pianificare nuove misure contro la crisi idrica. Basile chiede che la regione Sicilia Acqua rivedano le quote riservate all'irrigazione, dando rimborsi agli agricoltori e si dirotti più acqua possibile per l'utilizzo potabile. No, diciamo che il tavolo chiesto in prefettura è un tavolo di ampio respiro che probabilmente non avrebbe neanche dovuto chiedere un sindaco, come forse anche a livello regionale qualcuno che avesse le competenze per poterlo fare. È un tavolo che serve a capire come in questo momento di grave crisi l'utilizzo dell'acqua per uso irriguo e idropotabile possa essere calmerato affinché le esigenze di tutta la popolazione trovi ristoro. Quindi il tema è questo, non è un attacco di nessuna natura e la consapevolezza che la risorsa idrica, anche se diminuita, c'è e un'equa distribuzione delle risorse tra idropotabile e irriguo serve alla nostra città come a tutta la regione. A Messia non c'è una crisi come in altre province ma già si avverte il sentore. È aumentata infatti la richiesta di autobotti in città a 338 negli ultimi sette giorni, rifornimenti che servono a coprire soprattutto le aree dove l'erogazione dell'acqua avviene ormai per poche ore al giorno. È probabilmente proprio a causa delle alte temperature con vasto incendio e si è propagato tra l'Esterpaglia a Mascaluccia in provincia di Catania. Le fiamme minacciano anche un deposito per il ricovero degli automezzi del comune in via Santa Margherita. Sono a lavoro diverse squadre dei vigi del fuoco richiesto anche l'intervento di un supporto aereo. Ottimi piazzamenti per due sindaci siciliani nella classifica annuale sull'apprezzamento dei primi cittadini di tutta Italia realizzata per il Sole 24 Ore. Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassia, al quarto posto insieme con i colleghi di Treviso, Novara, Mantova, Latina e Imperia. Diciassettesimi il sindaco di Catania, Trantino che supera il collega di Milano, Sala ed è a pari merito con il sindaco di Rimini. Al penultimo posto il sindaco di Palermo, Lagalle, in compagnia del collega di Roma, Gualtieri, in coda alla classifica, che il primo cittadino di Trapani tranquida con un gradimento del 42%. Tra i governatori cresce di sei punti il consenso per il presidente Schifani che sale all'ottavo posto a livello nazionale. Una persona è morta e una è rimasta ferita in un incidente stradale sull'autostrada Catania-Messina all'altezza di Forza d'Agro. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre vetture. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo dopo con altre notizie. La pista ciclabile di Siracusa, intitolata Rossana-Maiorca, è nel totale abbandono. Una vergogna, si indignano i fruitori. Sentiamo Francesco Alloi. Una pista ciclabile che cade a pezzi, più di sei chilometri, dai Cappuccini alla Targia, intitolati a Rossana, figlia del grande Enzo Maiorca, che sono nel totale abbandono. Percorrendoli notiamo che anche il manto è dissestato e così molti decidono di non venire più qui. La manutenzione è la grande assente. La manutenzione non ce n'è mai stata in questa pista. Soltanto un tre anni fa che hanno comprati alcune legne. Alcuni. Mi schifo anche di essere la fusano. Lo dico appartamente. Un po' di manutenzione, ecco, non guasterebbe. Un percorso con una vista mozzafiato. Si costeggia il mare e nelle giornate limpide si può ammirare anche l'Etna. Tutto, però, sorpassato dal degrado. Non si fanno competizioni sportive, ma qui un vincitore c'è, il degrado. Beh, il degrado è dovuto alla mancata manutenzione. La staccionata manca in diversi punti. Quella che resiste, invece, è a rischio cedimento. Oltre ad una brutta immagine, qui entra in gioco la sicurezza. Andare in bici diventa pericoloso? Anche, anche. Ci sono buche, ci sono, insomma, non ci sono transenne idonee. Insomma, è un po' pericoloso stare in queste zone. Un percorso a ostacoli? Diciamo di sì. Diciamo di sì. Anche la segnaletica ci ricorda che l'abbandono la fa da padrone. Erbace ovunque e tanto malcontento. Il comune non fa nulla, commenta qualcuno. E a guardare queste immagini, come possiamo non dargli ragione? Anche quest'anno, le tartarughe caretta caretta hanno scelto l'oasi del simeto per nidificare. Nei giorni scorsi, alcuni volontari hanno scovato le tracce del loro passaggio e poi il nido, che è stato recintato, e sarà sorvegliato fino alla sfiusa delle uova. Il WWF sottolinea che sono oltre un centinaio i nidi di tartaruga segnalati lungo le coste dell'isola, in aumento rispetto all'anno scorso. Un buon segnale, generalmente infatti, le tartarughe scelgono luoghi incontaminati per la deposizione delle uova. La storia del giudice Terranovo, ucciso dalla mafia nel 79, è stata protagonista in Anteprima Mondiale al Tormina Film Festival nel film di Pasquale Scimeca. Sentiamo Roberta Lunghi. Gliela posso fare una domanda? Ma lei nei miei occhi vede paura? Non c'è paura negli occhi del giudice Cesare Terranova perché quello sguardo che Sciascia definiva come quello incantato di un bambino si è trasformato in coraggio ancora di più al cospetto del boss Liggio. Il giudice è il boss presentato in Anteprima Mondiale al Tormina Film Festival realizza infatti per il regista e sceneggiatore Pasquale Scimeca l'esigenza di completare un puzzle. è stato il primo giudice che ha indagato i corleonesi ed è stato soprattutto il giudice insieme col suo maresciallo Colliene e Mancuso che hanno per primi hanno capito che la mafia si stava trasferendo dalle campagne alle città. Accetto. A Corleone un epidio scappio signore. Dottore stanno sparando. Sente di conoscere la verità il giudice Terranova interpretato da Gaetano Bruno gli mancano le prove ma le cercherà con una squadra di nomi che entreranno tristemente nella cronaca e nella storia. Perché buoni come Paolo Porsellino Gaetano Costa Rocco Vignici e mettici pure Giovanni Falcone faranno la differenza. Istruirà i primi due maxiprocessi contro la mafia con 116 e 66 imputati tutti i corleonesi che si concluderanno con l'assoluzione di quasi tutti. La delusione profonda la pausa dalla magistratura e poi il ritorno nel 1979 seppure con una consapevolezza. Ci sono persone che non sono contenta di come si sta comportando tuo marito. A quanto pare mi vogliono ammazzare. Terranova verrà ucciso con il maresciallo Lenin Mancuso la mattina del 25 settembre proprio mentre si apprestava a prendere servizio a Palazzo di Giustizia di Palermo. Ci fermiamo c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare tra l'altro del nuovo calendario di Serie C a tra poco. Siamo al calcio varato il calendario di Serie C vediamo dunque come sordiranno le varie siciliane Tonino De Mana Si è alzato il sipario a Firenze sul campionato di Serie C che scatterà l'ultima domenica di agosto e che vede ai nastri di partenza tre squadre siciliane esordio in trasferta per il Catania che affronterà il Sorrento la gara in programma il 25 agosto si disputerà a Potenza a causa dell'indisponibilità dello stadio dei Campani sottoposto a lavori di macchiage il Messina inizierà in casa contro il Potenza mentre il neopromosso ed ambizioso Trapani renderà visita al Foggia la prima casalinga del Rosso Azzurri giorno 1 settembre sarà subito un big match al Massimino sarà di scena il Benevento lo stesso giorno il Trapani riceverà l'abbraccio del pubblico amico per affrontare il Picerno con il Messina che invece viaggerà alla volta di Cerignola e siamo ai derby siciliani il primo alla non aggiornata metterà di fronte Trapani e Messina che si affronteranno il 13 ottobre gara di ritorno a campi invertiti il 23 febbraio 2025 alla tredicesima giornata la sfida da Cerchiani il Rosso tra Catania e Messina con l'andata al Massimino il 3 novembre e ritorno al San Filippo il 16 marzo alla quindicesima giornata 17 novembre incrocio tra Catania e Trapani che poi si affronteranno al provinciale il 30 marzo 2025 tra il ritiro precampionato e mercato ormai quasi tutte le società professionistiche siciliane sono al lavoro in vista della prossima stagione tranne il Messina Francesco Triolo c'è chi suda da qualche giorno chi è pronta a farlo e chi invece spera di conoscere il proprio destino Palermo Catania e Trapani Messina cercano di dare avvia la propria stagione in pieno calcio mercato dopo l'ufficializzazione di Nicolao il Palermo non si ferma Dionisi dal ritiro di Livigno ha detto chiaramente che si aspetta ulteriori rinforzi un terzino sinistro un centrale di difesa un regista una punta che sostituisca Mancuso la prossima settimana potrebbe essere il turno di Pierozzi e Ceccherini i due calcedori sono ormai in una fase molto avanzata della trattativa e mancherebbe davvero pochissimo il terzino destro della Fiorentina si allena a parte proprio in virtù dell'accordo con il Rosanero Ceccherini invece escluso dal progetto Verone si valuta la formula per portarla a Palermo per il ruolo di terzino sinistro che necessita di un rinforzo si pensa sempre a Carissoni del Cittadella in ritiro anche Catani e Trapani nella lista di convocati rossazzurri c'è anche Filippo D'Andrea l'attaccante ex Cerignola già arrivata da Sisi è il primo tassello di una rivoluzione che il direttore sportivo Daniele Faggiano sta portando avanti nel reparto d'attacco si lavora infatti anche per Facundo l'Escano sul quale il Catani è in vantaggio rispetto alla concorrenza Faggiano conta di chiudere a breve anche per il difensore Gerardi e il centrocampista De Rose un fedelissimo di Mimmo Toscano in Umbria a Caccia anche il Trapani che ha annunciato tramite il presidente Valerio Antonini gli arrivi di Celiento Benassai e Cagliazzo e le conferme Igelli Crimi e Guerriero tutto fermo o quasi al Messina si attende la risposta del gruppo straniero con cui è stata sottoscritta l'intesa per la cessione del pacchetto societario lo scorso 23 giugno intanto il club ha annunciato che il ritiro partirà il 22 luglio dove non si sa con quali giocatori nemmeno visto che al momento sono solo 5 tesserati per la società giallorossa e tutti i movimenti il calendario del calcio saranno al centro del nostro focus di oggi dedicato appunto al calcio e condotto da Angelo Gagliano noi ci fermiamo qui grazie per averci seguiti e a tutti un buon pomeriggio grazie per averci seguiti grazie per averci seguiti